Musica Buon martedì a tutti i nostri telespettatori dal salotto di Diffusioni, il salotto di DTV, la tv digitale dell'Emilia Romagna, più fresca, innovativa e giovane che c'è. Tra gli argomenti di cui parliamo a cadenza settimanale c'è anche quello relativo ai vostri diritti, si parla di legge, oggi in particolare parliamo di un argomento importante, può capitare, anche se noi ci auguriamo sempre che così non sia, di venire fermati e risultare positivi all'alcol test. Qualora questo dovesse essere successo a voi o a qualcuno che conoscete, ci sono delle leggi, delle norme e dei diritti che vanno tutelati e vanno rispettati, per questo noi ne parliamo con il nostro esperto. Musica Grazie Deborah per la linea, noi ci ritroviamo a un'altra puntata di Dilex, abbiamo con noi il nostro preziosissimo Marco Minocari, esperto e ospite fisso, e la nostra avvocatessa Michela Casale, operante nel Foro di Imola. Allora, stasera parliamo di una questione cara purtroppo, tra virgolette, un po' a tutti, quindi... In tutti i sensi. In tutti i sensi, cara sì, per le conseguenze, ovviamente, perché è un qualcosa che capita ai giovani, ai meno giovani, insomma, un discorso di cui ampiamente si parla, la guida è in stato debrezza. Esatto. Quindi, nella specifica, in che cosa incorriamo nel caso in cui, bevendo un bicchiere in più dopo una serata, o comunque un'occasione particolare, ci ritroviamo davanti ai carabinieri che ci fermano, mentre siamo alla guida della macchina. Avvocato Minocari. Sì, Paola, è un'ipotesi di cui vogliamo parlare, perché in questo programma chiaramente parliamo di aspetti legati alla vita di tutti i giorni. E obiettivamente, a parte gli astemi, per tutte le altre persone che saltuariamente possono anche dilettarsi con un bicchiere d'alcol, che può essere vino, può essere una grappina a fine pasto, c'è questa spada di Damocle del non sapere se il tasso alcolico nel proprio sangue sia superiore ai limiti di legge. Certo, anche perché adesso, nonostante in tutti i locali, i ristoranti, ci siano delle evidenti dichiarazioni appunto di tasso alcolemico, molto spesso il corpo reagisce, a seconda anche di situazioni particolari, in maniera diversa davanti all'assunzione di alcol. Quindi non si sa mai effettivamente come si reagisce. Il corpo reagisce in maniera diversa, ma le sanzioni sono uguali per tutti. Esatto, e abbiamo sia nel campo amministrativo che poi in casi molto gravi nel campo penale. Esatto. Quindi snoccioleremo l'argomento. Infatti, l'articolo che disciplina la guida di Stato d'Ebrezza è l'articolo 186 del codice della strada. L'articolo 186 suddivide la fattispecie della guida di Stato d'Ebrezza in tre casistiche, in tre filoni. Il primo filone che è l'ipotesi lieve e che è il caso in cui si venga colti alla guida con un tasso alcolemico tra 0,50 e 0,80. Quindi 0,50 che cosa sarebbe? Un bicchiere? Ah beh, dipende sempre. Come vedi, la mia stazza potrebbe anche portare a due bicchieri o tre bicchieri forse. La mia, mezza probabilmente. Esatto, esatto. Quindi capisci che tutto è rapportato alla corporatura, alla capacità di metabolizzare. A priori non si può sapere. Quanto è mangiato, salto, amico vuoto, certo. Però sostanzialmente se ti colgono da 0,50 a 0,80 è un'ipotesi sanzionata con tre mesi di sospensione della patente, multa comunque da 500 a 2.000 euro. Eh. E non è un'ipotesi di natura penale. È solo una sanzione di natura amministrativa. Quindi non si incorre in processo? No, non si incorre in un procedimento penale, esattamente. Se invece vieni colto alla guida con un indice alcolemico tra 0,80 e 1,50, la fattispecie è prevista proprio come penale. E quindi tu stai commettendo un reato e sarai sottoposto a un processo penale. Le sanzioni comunque sono abbastanza gravi perché si va fino alla sospensione da sei mesi ad un anno e la multa che va da 800 a 3.200 e l'arresto fino a sei mesi. Quindi si ha sia una sanzione amministrativa, quindi una multa, e anche un procedimento penale, quindi conseguenze molto gravi. E una pena detentiva. C'è quindi la sospensione che è la sanzione accessoria. Poi c'è una sanzione pecuniaria e una sanzione detentiva. Quindi non è o, ma è. È sia la multa che la detenzione. E poi c'è l'ipotesi gravissima invece che è quando viene colto alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,50 nel sangue. In questo caso c'è la sospensione comunque addirittura fino a, da un anno, l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da sei mesi ad un anno. Mamma mia. Oltre alla confisca del veicolo che stai guidando se è a te intestato. Quindi si parte da un anno in ritiro della patente a tempo indeterminato, quindi potrebbe anche... Diciamo così, adesso chiaramente se è la prima volta che viene colto alla guida, la sanzione è sempre comunque di un anno. Se invece è reiterato, è un discorso che si ripresenta più volte magari... Dopo se tu hai effettivamente commesso lo stesso tipo di reato, si è colto alla guida una seconda volta nell'arco comunque di un certo tempo, le ipotesi sono addirittura peggiorate perché c'è proprio l'ipotesi dell'aggravante che porta ad un aumento delle sanzioni. In certi casi, in questo caso, se ci fosse anche l'aggravante in questo caso di aver commesso comunque un incidente o di aver commesso, di essere stati colti alla guida tra le 22 e le 7 di mattina, addirittura ci può essere anche la revoca della patente. E il problema della revoca è addirittura più grave perché se ti viene revocata la patente non è che uno pensa, beh, è quasi meglio che la sospensione di un anno perché ridò l'esame poco dopo. In realtà no, perché c'è un articolo del codice della strada che prevede che nel caso di revoca della patente per guidi stato d'ebrezza, tu non puoi ridare l'esame se non decorsi tre anni da quella che te l'ha revocata. Quindi è una tragedia. Certo, assolutamente, perché per tre anni effettivamente non puoi assolutamente. Perché questo aggravante durante le ore notturne? Beh, perché, non lo so, devi chiedere al legislatore, suppongo però una questione anche di riflessi, per una questione comunque di sicurezza perché comunque di notte la gente tende a bere e vogliono preservare comunque secondo me invece una sicurezza sulle strade anche di notte. È una fascia oraria più delicata, oltretutto in qualche maniera ovviamente i riflessi vengono a meno, c'è buio, quindi probabilmente è una tutela maggiore. Sì, è considerato come aggravante proprio, ecco. E quando, sostanzialmente, cosa succede quando vieni colto alla guida in stato d'ebrezza? Chiaramente vieni fermato, ti viene fatto comunque un test. Il palloncino. Esatto. Che paradossalmente comunque non è necessario per il ritiro della patente, perché basta che comunque alla fine gli agenti considerino che tu hai un alito vinoso, a andatura comunque barcollante, se notano degli elementi che sono sostanzialmente comunque corrispondenti all'aver assunto bevande alcoliche e non essere in grado di rispondere esattamente a tutti quanti i riflessi, ti possono sospendere comunque la patente. Però chiaramente in questo caso, non essendoci un controllo effettivamente comunque misurabile, ti viene applicata la sanzione minima. Ma se hanno invece le apparecchiature per misurarti l'alcol test, e beh, in quel caso tu dovrai sottostare alle sanzioni previste per i tre scaglioni. Ma cosa succede alla fine? La prima cosa che fanno gli organi accertatori, polizia, carabinieri o quelli che siano, ti ritirano la patente. A quel punto però partono due, diciamo così, filoni. Uno che è di natura amministrativa e uno che è di natura penale. Perché la tua patente va consegnata entro cinque giorni alla locale prefettura. La quale entro 15 giorni da quando l'ha ricevuta deve emettere l'ordinanza, il provvedimento di sospensione della patente. Questo è il ramo amministrativo, che ha delle tutele specifiche. Il ramo penale invece ha un altro filone e vorrei farne parlare un attimo l'avvocato Casale. Sì, allora diciamo che l'ambito penale parte tutto dal verbale, ovviamente che viene redatto dalle autorità che ti sorprendono alla guida in stato di ebrezza, quindi polizia municipale, carabinieri. E cosa fanno? Non fanno altro che trasmetterlo, quindi depositarlo nella procura del luogo dove è collocato il tribunale competente. A quel punto lì cosa succede? Possono svilupparsi due ipotesi. Nel senso, il pubblico ministero, che è l'autorità, che diciamo dà l'input a che faccia poi partire tutto il procedimento penale, chiede al giudice delle indagini preliminari, il famoso GIP, di o emettere un decreto penale di condanna oppure di, si dice, citare a giudizio l'imputato, diciamo la persona che è stata accolta in stato di ebrezza. I procedimenti ovviamente sono diversi perché nel caso, in quest'ultimo caso, ossia la richiesta di rinvia giudizio, la persona dovrà andare direttamente quindi davanti al giudice, quindi all'autorità, e dal di lì poi partirà tutto il processo penale. Nel caso in cui invece venga emesso perché il GIP autorizza ed emette un decreto penale di condanna, a quel punto lì invece la persona incriminata, tra virgolette, potrà opporsi a questo decreto penale di condanna in un limite di tempo, nel momento in cui gli viene notificato appunto questo decreto penale, con un altro tipo quindi di risvolto. E' bene dire che, diciamo, la parte che viene sorpresa alla guida di stato di ebrezza può già da subito nominare un legale, un difensore di fiducia, che possa assisterlo nelle fasi che comunque si svilupperanno necessariamente, perché o in un modo o nell'altro quella persona lì verrà giudicata, diciamo, dall'autorità. Certo, ecco mi chiedo a questo proposito, una persona che palesemente viene colta in stato di ebrezza, perché in qualche maniera si vuole difendere? Per tutelarsi da che cosa? Per cercare di ottenere la pena minore possibile. E quindi la persona di solito si rivolge a un legale per cercare di trovare tutti quegli escamotage che possono poi ridurre la pena. E tante volte, insomma, anche noi siamo andati, prima di ovviamente arrivare al giudizio stesso, a parlare anche con i pubblici ministeri per cercare di trovare un accordo prima di andare davanti al giudice, in modo che la pena appunto venga ridotta, venga ridotta il più possibile, quindi cercare, insomma, di patteggiare proprio col pubblico ministero, che è l'autorità che invece cerca di solito di combinarla a pena più alta. Più grave. Quindi si cerca di... Però ci sono anche dei casi in cui sono arrivati dei decreti penali di condanna a fronte di fatti specie che invece erano da non considerare come guida in stato di ebrezza. Ecco, Avvocato Minocari, ci faccia un esempio di... Questi escamotaggi, non sono escamotaggi, sono proprio casi in cui la realtà sembra quella che in realtà non è. Come dico sempre, che è un caso, secondo me, non dico di scuola, però uno dei più strani che mi è capitato. Mi è capitato una volta di dover assistere una persona alla quale ha avuto un incidente, cioè tornando a casa è uscito di strada con la macchina, si è accorto di non avere avuto nulla, nessuna lesione, quindi è risalito sulla strada ed è andato a casa a piedi. Quindi la macchina è rimasta incidentata nel luogo? La macchina è rimasta di notte, incidentata fuori dalla strada e lui si è incamminato a casa a piedi. La casa distava sei chilometri. Ha raggiunto casa sua in circa un'ora, quindi andava anche veloce perché sei chilometri all'ora a piedi non è una velocità lenta. Quindi non era così ubriaco. Non era così lento, esatto. No, poteva essere anche ubriaco, cioè i riflessi però potevano essere buoni, però insomma è arrivato a casa. È entrato in casa, è uscito, dopo aver bevuto qualcosa arrabbiatissimo per l'incidente perché gli era passato davanti comunque un grosso animale per la strada, quindi aveva deviato, lì è stato fermato dai carabinieri perché dopo aver visto la macchina hanno fatto una ricerca sulla targa, hanno capito di chi era la macchina, si sono recati verso la sua abitazione. L'hanno trovato fuori casa. Hanno detto, lei è tizio Caio? Sì, sì, venga pure con noi allora che andiamo all'ospedale. Lì gli hanno fatto le indagini, gli esami di sangue, hanno riscontrato un tasso alcolemico superiore a quello consentito, addirittura c'era anche un tasso, sostanze stupefacenti, vabbè, di vario tipo, però questo non è detto che possa incidere, va bene. Fatto sta che comunque alla fine gli ha fatto un decretto penale di condanna. PM gli ha fatto un decretto penale di condanna. Attenzione, quindi, sostanze stupefacenti precedenti, oppure nel sangue. Insomma, se ci sono sostanze stupefacenti, comunque per esempio gli effetti comunque della marijuana, tanto per essere chiari, le tracce della marijuana nel sangue permangono per 3, 4, 5 giorni, dopo aver avuto l'assunzione, ma gli effetti psicotropi cessano dopo poche ore. Quindi, le tracce di sostanze nel sangue possono rimanere ed essere, diciamo così, rilevate, ma gli effetti psicotropi della sostanza stupefacente, siccome comunque dopo 2-3 ore cessano, in realtà devono essere rilevate dagli agenti. Non basta un esame del sangue per dire che tu stai guidando sotto l'effetto degli stupefacenti. Certo, quindi non c'è modo di capire quando, perché in realtà le tracce degli stupefacenti rimangono per più giorni. Dipende che tipo di stupefacente. Esatto, la marijuana è abbastanza lunga, per esempio, quindi c'era il principiativo della marijuana, comunque per un tot di giorni è rimasto. Fatto sta che però questo ragazzo è stato, diciamo così, proprio condannato con un decreto penale di condanna. E io lo ritenevo abbastanza ingiusto, perché secondo me non era stato colto alla guida. E anche a distanza di molto tempo da quando l'incidente era avvenuto. Quindi, se tu sei colto alla guida, mi va benissimo, cioè stai guidando, arriva la paletta, ti fermano, ti trovano che è un testo alcolemico, non c'è scampo. Ma in questo caso scampo c'era. Perché lui era nel suo domicilio e potenzialmente non sarebbe stato pericoloso per nessuno. Era già a casa, aveva avuto un incidente un'ora e mezza prima circa. E non era la guida. E non era la guida. Però di questo gli agenti non ne fecero traccia nel rapporto mandato al Pubblico Ministero. E il Pubblico Ministero ha semplicemente visto gli esami del sangue, ha detto, benissimo, c'è un tasso alcolemico, faccio un decreto penale di condanna. Ebbene, abbiamo fatto opposizione ed è stata vinta. Quindi, la difesa penale è comunque importante perché ogni fattispecie va valutata caso per caso. Nel singolo caso, certo. Esattamente. Come anche i casi di chi viene trovato invece fermo in un parcheggio ubriaco. Allora, fino a tempo fa addirittura era ammesso che uno potesse stare con la macchina accesa ubriaco in macchina posta al margine della strada. È arrivata una sentenza recente che ha completamente stravolto. No, perché se tu sei pronto per partire, se sei ubriaco, ma anche fermo in un parcheggio vicino alla strada, sei comunque giudicabile come guida di stato debrezza. Per la guida di stato debrezza. Quindi, condannabile. E quindi c'è stata un'evoluzione giurisprudenziale che ha portato a un inasprimento delle situazioni o delle condanne. Se una persona ha bisogno di riposarsi e dopo due birre ha voglia di dormire un paio d'ore per partire più carico e ovviamente aver smaltito gli effetti dell'alcol, non può? Addirittura, cioè ci sono queste sentenze che ti dico appunto c'è una sentenza adesso non ricordo più esattamente adesso la data e il numero perché non l'ho portata con me ma che ha appunto giudicato colpevole di guida di stato debrezza colui che era posto al margine della strada col motore fermo ma col tasso alcolemico superiore perché teoricamente poteva ripartire in qualsiasi momento. questa è una situazione molto delicata assolutamente molto delicata che effettivamente uno dice ma come se io faccio di tutto per evitare di creare pericolo alla circolazione poi mi trovo comunque a dover rispondere ma dove devo andare allora? Devo andare a piedi? Devo prendere un saccappello una tendina per stare fuori dalla macchina per far capire che comunque non sto guidando? Ci sono situazioni un po' effettivamente particolari diciamo che sia i livelli appunto dell'alcol che sono estremamente bassi ormai che l'inaspiramento ha portato insomma quasi a un divieto di utilizzazione dell'alcol che da un punto di vista è giusto perché effettivamente ognuno reagisce a modo suo quindi le soglie devono essere in qualche maniera molto rigide però è anche vero che non tutti quelli che bevono un bicchiere di vino non sono poi in grado di essere pronti alla guida ecco quindi bisogna un attimo vedere la casistica a questo punto io partirei con i quesiti che i nostri telespettatori ci pongono se siete d'accordo allora pregettissimo avvocato la mia domanda è la seguente permettendo che sono stato colto in stato debrezza durante un rutinario accertamento e che il livello di alcolemia era di 0,98 al primo esame e di 0,90 al secondo esame mi hanno detto che si è aperto il procedimento penale e che comunque si potrà risolvere grazie ad un lavoro di pubblica utilità mi puoi spiegare in che cosa consista? sì allora diciamo che questo tipo di beneficio è stato introdotto appunto dal legislatore come un atto di estrema clemenza che appunto il legislatore vuole dare a chi viene sorpreso alla guida in stato debrezza in una in maniera del tutto casuale diciamo un banalissimo controllo una persona si magari esce da un locale aveva bevuto qualcosa viene fermato viene controllato viene fatto il test effettivamente risulta un tasso di di alcol superiore e viene ovviamente multato il legislatore ha previsto che in determinate ipotesi questa persona può tra virgolette scampare alla sanzione penale nel momento in cui si offre a prestare questi servizi di pubblica utilità mi preme sottolineare però questo aspetto molto importante cioè non deve essere assolutamente occorso un sinistro stradale cioè deve essere un banalissimo controllo che quindi comunque superiore a un tasso alcolemico lieve che determinerebbe una sanzione penale il legislatore ha voluto comunque venire incontro dare la possibilità a questa persona che magari non aveva mai fatto niente in tutta la sua vita viene beccato l'unica volta e gli dà questa possibilità questa persona non deve fare altro che recarsi diciamo negli enti locali che appunto offrono questi tipi di servizi che possono non so consistere in un lavoro di giardinaggio assistenza agli anziani quei servizi proprio di servizi sociali e diciamo che la cosa positiva di questo aspetto è il fatto che la sanzione del ritiro della patente viene della sospensione della patente viene dimezzato quindi se diciamo la pena prevedeva la sospensione per sei mesi appunto può essere ridotta a tre mesi quindi sono diciamo anche degli incentivi da una parte appunto il sistema sanziona si è rigidito però fa vedere anche uno spiraglio di luce a colui che effettivamente si dimostra comunque ligio e sfortunato nel essere stato beccato proprio nell'unica occasione della sua vita che ha usato un po' di più ecco che allora bene quindi le soglie sono comunque relative a persone che hanno un comportamento sempre rigido giusto e che eventualmente a random vengono certo quindi non è un discorso applicato a tutte le casistiche benissimo assolutamente no allora andiamo avanti con il secondo quesito egregio avvocato sono stato fermato dalla polizia durante un controllo e mi è stato riscontrato un tasso alcolemico di 0,63 mi è stata quindi riterata la patente ma dopo circa 30 giorni non ho ancora ricevuto il provvedimento della prefettura ed il mio avvocato mi dice che non posso ancora fare il ricorso al giudice di pace come mi devo comportare? ipotesi abbastanza di scuola prima di tutto non c'è l'ipotesi penale perché siamo comunque tra 0,50 e 0,80 poi come ricordavo prima quindi abbiamo soltanto la sanzione amministrativa quindi la multa e come dicevo prima comunque allora l'organo accertatore cioè polizia o carabinieri o chi sia ha 5 giorni per spedire il tutto alla prefettura la prefettura ha 15 giorni poi per emettere il decreto di sospensione del patente se la prefettura non emette il decreto di sospensione entro quindi quei 20 giorni chi si è visto ritirare la patente può andare in prefettura e chiederne la restituzione e questa gli deve essere restituita se non ci va e non fa questa richiesta al 21esimo giorno è evidente che comunque se la prefettura emettesse il provvedimento al 25esimo al 30esimo giorno e te lo notificasse anche il 35esimo al 40esimo giorno il provvedimento però è stato emesso e tu non hai chiesto in anticipo quindi questa finestra temporale è bene tenerla in considerazione proprio per evitare anche di lasciare che il tempo sani le eventuali carenze procedurali o di termini della prefettura è una diciamo così chicca molto interessante da lanciare ai nostri telespettatori perché se gli capitasse una cosa del genere secondo me il 21esimo e il 22esimo giorno dovrebbero essere davanti alla prefettura ad esigere la propria patente bene grazie mille per i precisissimi consigli noi siamo arrivati anche questa volta alla conclusione della puntata è stato un argomento che sicuramente desterà eventuali altri quesiti quindi invitiamo ovviamente tutti a scrivere e a riprenderlo poi eventualmente noi intanto consigliamo di non bere prima di metterci alla guida oppure come fanno adesso i giovani che sono estremamente ferrati sull'argomento anche molto prudenti scegliete una persona che non beve come per esempio la sottoscritta che viene prenotata da settimane in settimane e fate guidare lei quindi noi ringraziamo la nostra avvocatessa Michela Casale e l'avvocato Marco Minoccari e ridiamo la linea a Deborah e ci vediamo la prossima ciao grazie grazie questa puntata di Diffusion si chiude qui vi ricordo che se avete delle domande da fare al nostro esperto potete inviare una e-mail o un video messaggio a questo indirizzo programmi chiocciola di trattino alto tv.net e non perdete la puntata di domani perché noi parliamo di tanti argomenti dai vostri diritti alla bellezza domani siamo al Palace Beauty and Spa di Imola siamo perché ci sono anch'io e scopriamo qual è il trucco indicato per le teenager ciao